Questa crisi è veramente forte, ci attanaglia sempre di più, con tante problematiche, con ipotetica guerra che potrebbero far aumentare ancora di più i prezzi e poi il lavoro continua comunque a mancare. I commercianti sono ancora in lockdown, ma il Covid questa volta c'entra poco o nulla. Le piccole attività sono con l'acqua alla gola, i magazzini sono poco riforniti, molti dei fornitori di paesi esteri come la Cina hanno ridotto la produzione. Gli articoli scarseggiano nei negozi, anche considerando che gli ordini della merce, da fare con mesi e mesi di anticipo, si sono ridotti a causa dell'incertezza dovuta alla pandemia. I prodotti che mancano agli esercenti però si possono trovare online, sulle grandi piattaforme di distribuzione, e spesso a prezzi molto più vantaggiosi per il consumatore, in quanto le piccole attività devono fare i conti con tasse, stipendi e bollette, quella della luce è più che raddoppiata, mentre le banche, sempre più raramente, sono disposte a rimodulare i finanziamenti. Questa condizione che è nata dal problema Covid sta diventando un'abitudine a non frequentare le città, non frequentare i negozi. Quindi il primo problema è la paura, dobbiamo far tornare comunque i cittadini, i consumatori, nelle strade in tranquillità, senza mascherina. Siamo tornati alla normalità e alla normalità deve tornare anche il commercio e il turismo. Il problema importante è che in questa fase nasce una condizione diversa, il prodotto primario non viene consegnato ai negozianti, cioè le grandi aziende non stanno fornendo i negozi, le imprese piccole vorrebbero lavorare ma non hanno il prodotto, le imprese grandi lavorano online a un prezzo stracciato. Naturalmente il problema più grande è che le imprese online non pagano le tasse come le pagano le piccole imprese. Gli ultimi ristori per gli esercenti sono stati quelli dell'anno scorso. Il 31 marzo, data in cui decadrà l'obbligo di mascherine e lo stato di emergenza, i negozianti dovranno tornare a pagare la tassa sul suolo pubblico. Per questo Confesercenti Pescara ha scritto una lettera diretta al prefetto e ai sindaci della provincia per chiedere la sospensione o la riduzione delle imposte locali. A livello nazionale, intanto, il governo ha già speso circa 10 miliardi di euro per calmirare gli aumenti, che però al prezzo delle utenze hanno fatto il solletico. In un anno il costo della luce è aumentato del 131%, del 94% quello del gas. Il governo lavora per raddoppiare l'estrazione del metano, anche dai giacimenti nell'Adriatico. Eccola la transizione ecologica a suon di trivelle, fanno sapere gli ambientalisti abruzzesi del coordinamento Tuviva. Mentre a Roma prosegue lo sciopero della fame di ultima generazione per chiedere un incontro al ministro Cingolani.